Gloria al Signore, alleluia. Gloria al nome santo del Signore. Seconda lettera a Timoteo, capitolo 2 dal versetto 14 al versetto 21. Gloria a Dio, seconda lettera di Timoteo, capitolo 2 dal versetto 14 al versetto 21. Ancora oggi ci siamo soffermati su Timoteo, su questa meravigliosa lettera. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole. Esse non servono a niente e conducono alla rovina chi le ascolta. Sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità, ma evita le chiacchiere profane, perché quelli che le fanno avanzano sempre più nell'impietà e la loro parola andrà rodendo come la fa la cancrena. Fra questi sono Imeneo e Fileto, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la resurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Tuttavia, il solito fondamento di Dio rimane fermo. Portando questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono Suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronunzia il nome del Signore. Sentite che parole forti, fratelli. In una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, e gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone e preparato per ogni opera buona. E chi non vorrebbe essere quel vaso, fratelli e sorelle, gloria al Signore. E io credo che noi dobbiamo aspirare a questo, a un servizio sempre più efficace e gradito a Dio. Come sappiamo, il Signore, perché l'abbiamo già detto l'altra domenica, aveva appunto costituito Timoteo come pastore della Chiesa di Efeso. Doveva pasturare questa comunità nella quale si erano infiltrati, come già aveva predetto l'Apostolo Paolo per mezzo dello Spirito Santo, dei lupi rapaci, delle false dottrine. E Timoteo doveva guardarsi da queste persone, da questi personaggi. Però, attenzione, non solo, non solo questo. Al versetto 14 abbiamo letto, ricorda loro queste cose, scongiurandoli davanti a Dio che non facciano dispute di parole. esse non servono a niente. Paolo dice, è inutile che discutete su certe cose, che portate certi argomenti. Non servono a niente queste discussioni all'interno della Chiesa. E Paolo era un credente, ovviamente con la C maiuscola, era un credente che guardava le cose importanti all'avanzamento dell'opera di Dio. Questo interessava Paolo, questo era il sentimento che aveva nel cuore. E voglio dire qualcosa di più. Quando Paolo scrive alla Chiesa dei Romani, vi ricordate la faccenda delle carni sacrificate agli idoli? C'era chi mangiava liberamente queste carni e chi invece si faceva lo scrupolo. Paolo non dà una indicazione ben precisa su quello che era il suo punto di vista, anche se si capisce. Però dice a questi credenti, mettete da parte queste cose, cioè la convinzione che tu hai, serbala per te stesso. Non perdere per la tua convinzione tuo fratello per il quale Cristo è morto. Cioè per un cibo tu stai perdendo il tuo fratello. Fratelli e sorelle a volte si creano delle divisioni nella Chiesa, all'interno della comunità, per punti di vista diversi, che poi non sono neanche secondo la volontà di Dio, oltretutto. Perché non ne siamo così sicuri, vero? Noi siamo sicuri di quello che la parola ci dice. Allora lì dobbiamo fermarci e dire guarda che è scritto così. E lì non possiamo dire niente, fratelli. Ma quando si tratta di mentalità, punti di vista, cose tramandate, che vengono dal passato, ma che non vengono dalla scrittura, beh, lì ci dobbiamo un attimino guardare, vedere se effettivamente le cose stanno così. E quindi Paolo dice ai romani, smettete dunque di giudicarvi gli uni gli altri, ma cercate piuttosto di non porre pietra di inciampo sul fratello. Cioè su quello che il fratello sta facendo, lasciatelo lavorare. Questo, fratelli, non sto parlando del pastore solamente, io sto parlando dei rapporti tra di noi, che devono essere, diciamo, portati avanti con una certa sensibilità spirituale. Ma questa sensibilità, sapete, quando viene? Quando noi siamo uomini e donne di preghiera e leggiamo la sua parola. Solo in questo modo, allora lo spirito entra e porta questi sentimenti. In seconda di modio, capitolo 2, versetto 24, sentite che bello? Sempre per mantenerci su questo argomento, dice, or il servitore del Signore, apro una parentesi e la chiudo, noi siamo tutti servitori del Signore, donne e uomini, siamo credenti, serventi, serventi e servitori di Dio. Ora il servitore del Signore non deve contendere, ma deve essere mite in verso tutti, atto ad insegnare, paziente. Non deve litigare. Non deve cercare il litigio, il servitore del Signore, cioè colui che vuole essere servitore del Signore. cercare di essere cavilloso nei versetti. Ci sono quelli cavillosi che vanno a cercare sempre il versetto per poi per mettersi in contrapposizione con gli altri, con gli altri credenti. Bene, dice Paolo, guarda, Timoteo, statene lontano, perché questo comportamento non è da parte del Signore. Lo sto dicendo a mie parole. In Tito, capitolo 3, versetto 9, io leggo molto quando predico, Tito, capitolo 3, versetto 9, dice, ma quanto alle questioni stolte, Tito curava la Chiesa di Greta, alle genealogie, alle contese e alle dispute intorno alla legge, statene lontano, perché sono inutili e vane. Fratelli, noi ci chiediamo che la parola di Dio è ispirata dallo Spirito Santo, vero? Statene lontano, statene lontano da queste cose, perché non producono niente, anzi, creano problemi all'opera del Signore. Al versetto 15, sempre del nostro testo, di secondo Timoteo, capitolo sempre il 2, al versetto 15, dice, sforzati di presentare te stesso, davanti a Dio, come un uomo approvato. Il servo del Signore, la servente, non so se è giusto chiamare servente, comunque il servo del Signore, inteso come uomo e donna, deve preoccuparsi nel proprio servizio di essere approvato dal Signore. Questa deve essere la preoccupazione, fratelli, principale del nostro cuore, altrimenti il nostro servizio diventa qualcosa di strano, di anomalo, secondo la parola di Dio, perché noi, quando facciamo qualcosa, la facciamo per il Signore, fratelli, non per i like, vero? Non per ricevere le visualizzazioni, ma lo facciamo per piacere al Signore, questo è un grande pericolo che purtroppo piano piano si sta, anzi già è entrato abbastanza nelle chiese, cercare il like, il consenso, ora noi siamo contenti quando la parola, la predicazione viene pubblicata e viene ascoltata e speriamo nel Signore messa in pratica, ma sappiamo bene nei nostri cuori che quello che veramente produce, fratelli e sorelle, per noi, motivo di gioia è quando sappiamo che la parola ha portato dei frutti, che qualcuno è stato benedetto, questo deve essere, fratelli, a volte noi ci dimentichiamo dell'approvazione del Signore in quello che stiamo facendo, può succedere, fratelli, e qui c'è un bel esempio che avete già sentito diverse volte, però è buono raccontarlo, di un musicista che fece un bel concerto, c'era tanta gente e alla fine di questo concerto tutti lo applaudivano, tutti quanti erano entusiasti di questo musicista, ma l'occhio di questo uomo va verso una persona, e qualcuno si avvicina e dice ma non vedi che tutti dicono quanto sei bravo, perché sei triste? Perché dice vedi quella persona che sta lì? Dice quello è il mio maestro e quando è finito il concerto non si è alzato, vuol dire che ho sbagliato qualche cosa, avete capito il senso, vero? Il nostro maestro ci deve dare il consenso, l'approvazione, non il pastore, non il fratello, non la sorella, ma il Signore. ora a noi ci fa piacere quando qualcuno si dice grazie a Dio insomma la parola, grazie a Dio quella cosa che hai fatto, per carità fa sempre piacere, però dobbiamo ricercare l'approvazione del Signore. Signore, sto facendo bene, sto facendo male, ho i sentimenti giusti per fare questo servizio, lo sto facendo per me stesso, lo sto facendo per gli altri, lo sto facendo per te, veramente? come diceva il salmista, oh Signore esamina, mi conosci, vedi se c'è in me qualche cosa che io non riesco a vedere, lo sto dicendo a parole mie, sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, studiati, dice la Diodati, eh sì, dobbiamo stare attenti, è scritto in Filippesi capitolo 2 versetto 3, sentite questi versi che voi già conoscete, Filippesi capitolo 2 versetto 3, non fate nulla, non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, spirito di parte o spirito di contenzione, dice come? Nel popolo del Signore ci sta questo, eh sì, c'è anche questo, fratelli e sorelle, spirito di rivalità, cioè fare le cose per contenziose, cioè io faccio questo, te lo faccio vedere, così ti metto in difficoltà, un esempio della Bibbia, quando Paolo, immagino Paolo, scusate, faccio delle immagini, immagino questo servitore del Signore quando gli è stato riferito che c'erano alcuni che predicavano il Vangelo per fargli dispiacere, perché lui non poteva, non poteva perché stava nel carcere, Paolo diceva bene, dice chi lo fa per contenzione, chi lo fa per, con buon sentimento, l'importante che il Vangelo viene predicato, e poi sarà lo stesso che dirà, però attenzione, la parola di Dio non è incatenata, tant'è vero che le più belle epistole, forse Paolo l'ha scritte proprio dalla prigione, ma sono tutte belle, fratelli, tutte quante, allo stesso modo, quindi fratelli e sorelle, è lo spirito di contenzione, lo spirito di rivalità, è uno spirito settario, fratelli, perché poi ci spinge, come dice la parola di Dio in Proverbi 18,1, chi si separa dagli altri cerca la sua propria soddisfazione e si irrita contro tutto ciò che è giusto, fratelli, sorelle, la Chiesa è un corpo, qui non ci sono leader, i leader non esistono nella Chiesa del Signore, il nostro leader è Cristo Gesù, lui è il buon pastore e la Chiesa procede di pari passo insieme di pari consentimento, non ci sono le mine vacanti, non ci sono quelli più bravi o meno bravi, sicuramente ci sono quelli che si impegnano di più e si impegnano di meno, ma comunque si vedrà tutto nel giorno che staremo davanti al Signore, quando l'opera di ciascuno verrà misurata, non in base a quello che abbiamo fatto vedere noi, ma in base a quello che è il metro del Signore, vero fratelli e sorelle, sarà lui a dire bene fatto, mio buono e fedel servitore, bene, questa opera cresce con l'impegno di ciascuno di noi, vero fratelli, con l'impegno di ciascuna giuntura, dice la parola del Signore, sforzati di presentare te stesso a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi, che tagli rettamente la parola di Dio. Tagliare rettamente la parola di Dio, cioè, doveva Timoteo preoccuparsi, come ci dobbiamo preoccupare noi in questa mattina, di quando parliamo della parola di Dio, parlarle in modo, fratelli, corretto, senza aggiungere e senza togliere, tagliare rettamente, fratelli, ma io sono andato un pochino più a fondo, non è soltanto il dispensare la parola di Dio, perché a dispensare non è che ci vuole molto, fratelli, a parlare della parola del Signore, ma questo tagliare rettamente mi ha fatto anche a pensare a quello che io devo fare su me stesso, sul lavoro che noi dobbiamo fare su noi stessi, fratelli e sorelle, perché noi siamo troppo a volte protesi verso gli altri, ma non ci curiamo abbastanza di quello che è nel nostro cuore, siamo preoccupati a dare e ci preoccupiamo poco quando è scritto nella parola del Signore custodisci il tuo cuore prima di ogni altra cosa, custodiscilo, il cuore, or ciascuno esamini se stesso, è scritto in Primo Corinzi capitolo 9 versetto 27, sentite Paolo qual era l'atteggiamento prima ancora di predicare la parola, anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri io stesso sia squalificato. Fratelli, sorelle, noi possiamo svolgere tutti i servizi di questo mondo, tutti, il predicare, da qua davanti, e non voglio elencarli tutti perché sono tanti, fermiamoci al predicare, così nessuno viene toccato, ma se questi servizi non vengono fatti con l'amore di Dio e con lo spirito che Dio ha previsto, con i sentimenti, scusate, che Dio ha previsto in questi servizi, noi rischiamo, come dico sempre, scusate l'esempio, di fare un buco nell'acqua, non solo non portare frutto, ma non essere approvati dal Signore. Ecco perché Paolo dice a Timoteo lascia perdere le discussioni, lascia perdere le dispute, non ti preoccupare quello che dicono, non ti preoccupare di quello che fanno, tu ti devi preoccupare di te stesso. E in un altro versetto dice bada a te stesso e all'insegnamento perché facendo così tu salverai te stesso innanzitutto e quelli che ti ascoltano. E' sempre a Timoteo che dice queste cose. Fratelli, ci deve essere nella nostra vita uno studio continuo, una coscienza pulita come abbiamo detto l'altra domenica davanti a Dio perché il Signore è sempre attento, è sempre vicino a ciascuno di noi e vede i sentimenti del cuore. Adesso sta guardando i miei sentimenti, i tuoi sentimenti, i tuoi pensieri e i miei e noi dobbiamo essere approvati. Stiamo pensando cose buone, beh sì, siamo qui, stiamo pensando sicuramente al Signore sto facendo bene il mio servizio, mi chiedo sempre io Signore aiutami, metti in me come dico sempre, lo ripeterò all'infinito, i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti, la tua volontà Signore voglio che sia in me perché non voglio sbagliare e non voglio neanche essere ingannato perché come abbiamo detto prima le persone, i credenti che poi ci vogliono bene ci dicono bravo ma attenzione fratelli perché la volontà di Dio, i pensieri di Dio spesso e volentieri sono molto più alti dei nostri e spesso quello che gli altri ci dicono potrebbe non corrispondere a quello che ci dice il Signore. Voi mi capite vero fratelli e sorelle perché Dio conosce i cuori e noi vogliamo essere conformi quindi attraverso la preghiera attraverso la parola noi acquisiamo questa approvazione da parte del Signore ha letto il fratello nel Salmo 32 io ti istruirò ti insegnerò la via per la quale tu devi camminare non ce la insegnano gli altri fratelli e anche se il Signore può usarsi dei nostri fratelli ce la insegna il Signore ce lo dice Lui quello che dobbiamo fare versetto 19 tuttavia il solido fondamento di Dio rimane fermo portando questo sigillo il Signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque pronuncia il nome del Signore andiamo alla fine in una gran casa non ci sono soltanto vasi d'ore e d'argento ma anche vasi di legno e di terra e gli uni sono destinati a un uso nobile e gli altri a un uso ignobile ma se dunque uno si conserva puro da quelle cose sarà un vaso nobile santificato utile al servizio del padrone preparato per ogni opera buona in una grande casa come abbiamo letto qui non ci sono soltanto vasi d'oro questa casa non è il mondo è la chiesa sta parlando della chiesa fratelli non del mondo ci sono dei vasi d'oro e d'argento gli uni sono destinati sembrerebbe quasi che ci sia una specie di predestinazione cioè quelli sono destinati a questo no no al versetto 21 dice comunque lo dico io comunque se dunque uno si conserva puro da quelle cose sarà un vaso nobile santificato utile al servizio del padrone preparato per ogni opera buona diventare un vaso nobile dipende da me e da te amenne vero fratelli decidere veramente di seguire la parola di Dio quindi bando al bando lo spirito di contenzione lo spirito di parte le liti le questioni le nemicizie tutte queste cose poi leggetele nella lettera ai Galati non fanno parte dello spirito di Dio noi vogliamo seguire le indicazioni che ci vengono dal Signore vogliamo chiudere gli occhi e pregare gloria al Signore Gesù vogliamo essere quei vasi puri come abbiamo detto come abbiamo letto dei vasi nobili santificati utili al servizio del padrone preparati per ogni opera buona fratelli sorelle ricerchiamo l'approvazione di Dio alleluia gloria al Signore